Le spiagge di Trentova e del lungomare San Marco ad Agropoli si confermano anche nel 2019 a misura di bambino. L'importante riconoscimento della bandiera verde viene assegnato dal 2008. In 12 anni, con il contributo di 2.550 pediatri italiani ed europei, sono state selezionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna più adatte ai bambini. Le regole per l'assegnazione del riconoscimento sono le seguenti. Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare pannolino o allattare e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi. Il 28 giugno, presso il comune di Praia Mare, in provincia di Cosenza, si terrà la cerimonia di consegna ai sindaci dei comuni della bandiera verde 2019. Ancora una volta, afferma il sindaco Coppola, siamo stati destinatari del riconoscimento della bandiera verde. Prestiamo la massima attenzione e cura le nostre spiagge e al nostro mare, che vengono ogni anno sempre più apprezzate, in particolar modo dalle famiglie. In particolare, per i nostri figli, il mare vuol dire divertimento e gioco e avere un luogo pulito e sicuro con fondali bassi e acqua limpida. Penso per noi genitori vuol dire avere tutto quanto serve per vivere una bella vacanza. Certamente c'è sempre da migliorare e noi il nostro impegno ce lo mettiamo tutto. Possiamo vantarci, dichiara l'assessore al porto dei Magno, Eugenio Benevento, di avere tra le nostre spiagge a misura di bambino. Certamente una virtù in più che si aggiunge alla trasparenza del nostro mare e alla salubrità del nostro arenile, un riconoscimento che premia il lavoro finora svolto e per il quale prestiamo il massimo impegno per mantenerlo e confermarlo di anno in anno. Stiamo cercando, conclude Benevento, anche di porre rimedio al problema della posidonia spiaggiata, vaiando tutte le possibili strade percorribili.